In provincia di Teramo sono otto i comuni cui cittadini i prossimi 3-4 ottobre dovranno tornare al voto per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri. E sono Basciano, Bellante, Bisenti, Castellalto, Colonnella, Cortino, Pietracamela e Roseto degli Abruzzi. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, la consigliera di parità della provincia di Teramo ha analizzato la loro composizione al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi di parità di genere. Sono molto soddisfatta perché comunque su 520 candidati 218 sono donne a confronto di 302. Rispetto comunque al passato diciamo che c'è stato un incremento. Questo e lo voglio ripetere grazie alla legge 215 del 2012 che dice che comunque i due terzi dei candidati non può superare l'altro. Quindi i due terzi deve essere anche comunque donna. Quindi è stata rispettata in pieno. C'è tanto da fare è la domanda che mi facevi. Sì, purtroppo c'è tanto da fare perché se analizziamo il dato nonostante poi sia stato rispettato quello che comunque la legge ci dice se andiamo poi a vedere le candidature a sindaco le cose cambiano completamente. Perché poi mi chiedo anche se si rispetta. Si rispetta perché altrimenti le liste possono essere comunque riviste e quindi la commissione elettorale così come dice la legge le deve comunque controllare e se non viene rispettata comunque la normativa le donne cioè la lista viene comunque riequilibrata. E se si riequilibria la lista significa che comunque si rischia di rimanere fuori cioè nel senso che la lista possa essere anche annullata. Quindi nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti possiamo tirare un sospiro di sollievo anche se insomma ci siamo perché la legge lo dice. Io per come la vedo posso dire che rispetto a tanti anni fa le donne sono sempre più propense ad impegnarsi. Sono ancora poche però insomma ci sta andando verso un trend positivo cioè in cui comunque si sente la voglia di esserci e di farci sentire. Anche perché noi donne siamo il valore aggiunto ed è importante comunque esserci per il bene delle nostre comunità e dei nostri territori.